Il Mare di Libri è il festival della lettura dei ragazzi che leggono e quindi è il festival della curiosità ed è questo lo straordinario spettacolo che offrono i suoi ragazzi che siano volontari o che siano andati a sentire degli incontri Sono ragazzi che mettono al centro le domande non per cercare delle scorciatoie ma per succhiare il midollo della vita Sono ragazzi che vanno ad ascoltare storie non per farsi consolare ma per capire come scrivere la storia più importante di tutte cioè quella del loro futuro Io sinceramente non so come ringraziarli, sono ragazzi che mi riempiono di speranza Curiosità e speranza sono Mare di Libri Grazie a tutti